Il giudice ha disposto anche il ritiro del passaporto per il capitano Klaus Peter Reich, comandante della nave Lifeline che ha sbarcato 234 migranti al porto della Valletta nei giorni scorsi. Reich dunque è trattenuto a Malta e non potrà lasciare l'isola. Lui e la ONG sono accusati di navigare con documenti irregolari perché secondo le autorità la Lifeline sarebbe registrata come imbarcazione da turismo e non per il salvataggio in mare. Dal punto di vista personale il capitano si sente vittima di una campagna che ha come obiettivo le ONG e in ultimo i migranti. La Corte ha stabilito anche di inviare nuovamente due ispettori sulla nave per esaminare il contenuto dei computer di bordo. L'udienza è stata aggiornata il 5 luglio. Intanto al termine dell'udienza un'altra ONG, la Sea-Watch, ha reso noto via Twitter che una delle sue imbarcazioni è trattenuta sotto sequestro dalle autorità maltesi.